Un omaggio a Giuseppe Scognamiglio per quello che fa con i suoi salotti culturali a Marana, a cui vorrei dedicare il vostro primo applauso. Perché lui ci asciò dentro, lui ci fa strada e lui ci indica la via. Allora, io immodestamente mi induzio a fare qualche cosa inassimile. L'abbiamo fatto una a Pompei dedicata al grande Raffaele Viviani nella città in cui ci onoriamo adesso di stare. Raffaele Viviani c'è nato nel 1888, si ricorda bene. E qui ci è rimasto per tanti anni, finché poi ha figliato la sua strada e il suo nome è diventato nuovo in tutto il mondo. Se mi consentite vorrei fare un'applauso proprio a questo mio compaesante, attracciato come il mio stato di teatro di tutto il mondo. Allora, ci onoriamo di stare in questa città e nell'associazione mio, rappresentata dal Presidente Gianluca Caccioppoli, che vorrei qui vicino a me.